Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Per quanto riguarda questo mercoledì avremo tempo stabile estivo su buona parte d'Italia. Grazie all'invalenza dell'alta pressione subtropicale ormai ben radicata all'interno del Mediterraneo. Qualche temporale in arrivo solo sull'arco alpino e al nord ovest per effetto di aria più instabile proveniente dalla Francia. Questo ci fa capire che il centro e il sud della nostra penisola saranno l'obiettivo principale dell'anticiclone africano. In Abruzzo è una giornata molto stabile con cieli sereni ovunque. Qualche velatura scorrerà tra mattina e pomeriggio ma non porterà alcun fenomeno. Temperature in ulteriore aumento le massime fino a 33 o 34 gradi a bassa quota ma farà caldo su tutta la regione. Anche in montagna notate i 32 gradi di L'Aquila. In aumento anche le minime, soprattutto lungo le coste, valori che oscilleranno tra i 22 e i 24 gradi. Quindi si prospettano notti decisamente miti a tratti affose. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.